Musica Dalla scorsa notte raffiche di vento ad oltre 60 km orari maggiori danni nel Venafrano Tra problemi burocratici, attacchi hacker, gli operai forestali della regione senza stipendi da oltre due mesi Ritardi nell'elettrificazione della Campobasso Roma e aumento dei costi Dura presa di posizione di Quintino Pallante e Ferrovie ci ha tenuto all'oscuro Grazie al PNRR anche i piccoli comuni stanno assumendo personale La soddisfazione del presidente Anci Molise Sciulli Festa di Natale ieri sera all'hotel Dora di Pozzilli Per i dipendenti e i collaboratori del gruppo Neuromed, gli auguri dei vertici Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale Dalla scorsa notte come avete sentito anche dai titoli raffiche di vento ad oltre 60 km orari Anche se i maggiori danni si sono verificati nel Venafrano Ci dice tutto Domenico Marzocchella Il vento che sferza sta facendo danni Nelle immagini le raffiche ad oltre 60 km orari che hanno sventrato la tensostruttura Un mese fa già danneggiata dal maltempo all'interno del nucleo industriale di Pozzilli Quella del Venafrano l'area più colpita Dalla notte scorsa la piana è battuta dalla bufera Tetti pericolanti e alberi caduti il risultato della furia degli elementi A Venafro stamane il proprietario di un'auto parcheggiata nel quartiere Case Popolari L'ha trovata coperta dalle fronde di un albero di velto a pochi metri da lì Per ripristinare la percorribilità della trafficata strada necessario l'intervento dei vigili del fuoco Dalla scorsa notte decine le chiamate alla centrale operativa di Sernia I caschi rossi al lavoro senza sosta Medesime criticità in alto molise Tante le richieste di intervento soprattutto da Agnone Ai Sernia in queste ore monitorate alcune abitazioni nel centro storico La situazione meteo oggi rimane precaria Ancora nel Venafrano deserte le strade Per la paura di caduta di oggetti dall'alto Le raffiche continueranno a spirare per l'intera giornata Domani miglioramento atteso E tra problemi burocratici e attacchi hacker Gli operai forestali della regione senza stipendi da oltre due mesi Intanto continuano a chiedere la stabilizzazione Il servizio di Antonio Leone Il Natale porta con sé dubbi e incertezze Per i circa 150 operai forestali regionali del Molise E non solo perché come ogni anno in questo periodo Inizia il periodo di cassa integrazione Si tratta infatti di lavoratori stagionali Ma anche perché come spesso accaduto in passato Gli operai rischiano di trascorrere le festività Senza poter contare sulle mensilità arretrate All'appello mancano gli stipendi di ottobre e novembre Gli ultimi che avrebbero dovuto ricevere Per la campagna antincendio boschivo e per gli interventi di canteristica In un gioco di rimpali tra regione e agenzie ARSAP Ad oggi nessuna novità Una situazione di incertezza che sta destabilizzando gli operai In attesa di notizie che però tardano ad arrivare Difficile comprendere i motivi del ritardo Da prima un problema burocratico Poi degli inconvenienti tecnici probabilmente collegati all'attacco hacker Che nei giorni scorsi ha colpito anche i sistemi informatici dell'ente regionale Provocando serie conseguenze In realtà nelle ultime ore si è aperto qualche spiraglio Sembrerebbe infatti che si sia trovata una soluzione alternativa Per il pagamento della sola mensilità di ottobre Lo stipendio a gran parte dei lavoratori dovrebbe arrivare martedì prossimo Sta di fatto che ora i forestali si dicono stanchi e chiedono maggiori certezze È paradossale che si debba aspettare tutto questo tempo Spiega uno di loro Per vederci riconosciuto quanto ci dovrebbe aspettare di diritto Come al solito la categoria degli operai forestali non viene presa nella giusta considerazione Anche perché gli stessi lavoratori le scorse settimane hanno chiesto un confronto con l'assessore all'agricoltura Incontro che però ancora non c'è stato Sul tavolo di Micone l'annoso problema della stabilizzazione Precari da decenni gli operai forestali continuano a chiedere un interessamento delle istituzioni Le opportunità ci sono, fanno sapere È una questione di volontà politica In Toscana e in Sardegna attraverso il PNRR sono stati stanziati i fondi ad hoc Per la continuità lavorativa e la stabilizzazione di queste figure professionali In Molise invece è ancora tutto tace Compreso il pagamento delle mensilità retrate Conferenza stampa del consigliere regionale di costruire democrazia Massimo Romano Che annuncia un'avvertenza istituzionale nei confronti del Governo nazionale Per pretendere che il debito sanitario venga pagato dallo Stato e non dai molisani La prima azione concreta dopo la bocciatura in Consiglio regionale Sarà quella di rivolgersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ascoltiamo Francesco Adamo Il consigliere regionale di costruire democrazia Massimo Romano Ha presentato nei giorni scorsi una pregiudiziale in Consiglio regionale Respinta dalla maggioranza con cui sollecitava il Massimo Ente Ad aprire un'avvertenza istituzionale nei confronti del Governo nazionale Per pretendere che il debito sanitario venga pagato dallo Stato e non dai molisani Sappiamo che per coprire i debiti Il Consiglio regionale ha approvato l'aumento dell'IRPEF per i molisani alla massima liquota Io penso che questa proposta incontri il consenso della unanimità dei cittadini molisani Forse gli unici che non sono d'accordo sono i componenti dell'Aggiunta regionale E della maggioranza in Consiglio regionale che hanno bocciato questa proposta Che a noi sembra di buonsenso e assolutamente necessaria Cioè se lo Stato da 14 anni ha commissariato il Molise sulla materia sanitaria E' giusto che paghi lo Stato per questo disavanzo che si è prodotto nei 14 anni Mi sembra un ragionamento lineare Certamente non possono pagarlo i cittadini molisani in termini di maggiori tasse A fronte di servizi che sono i peggiori d'Italia sotto il profilo in particolare purtroppo sanitario Massimo Romano ha intenzione di andare avanti in questa richiesta E prevede tutta una serie di azioni Dopo la bocciatura in Regione non ci fermiamo E quindi ci rivolgiamo innanzitutto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri E agli altri ministeri affiancanti che hanno esercitato il controllo sull'attività commissariale E ci rivolgeremo a tutte le autorità amministrative Se necessario anche di carattere giudiziario Coinvolgendo cittadini, partenariato, sindacati, amministrazioni comunali Insomma un Molise che non ci sta a fare la parte di quelli che Nonostante questo commissariamento devono poi anche pagarne i costi E ora torniamo a parlare della Unilever o meglio dell'ex Unilever Della sua riconversione industriale Nonostante l'apparente fase di stallo nell'erogazione del finanziamento pubblico Il presidente del nucleo industriale di Pozzilli Pasquale Colitti resta ottimista Domenico Marzocchella Vicenda ex Unilever A Pozzilli risuonano ancora tra gli anonimi stradoni squadrati del nucleo industriale Le parole di Massimo Calzone Il responsabile di Invitalia, l'agenzia che a questo punto eventualmente dovrà dare l'ok All'erogazione dei finanziamenti pubblici per la riconversione industriale del sito Ha fatto riferimento a nodi nell'iter ancora da sciogliere Incalzato ai nostri microfoni non ha voluto dire di più Intanto i circa 60 dipendenti più che il ritorno al lavoro che almeno per ora non sembra alle viste Sono in attesa del prolungamento degli ammortizzatori sociali al 2024 Sulla vicenda invece cauto ottimismo dal presidente del consorzio industriale Pasquale Colitti Da presidente del consorzio industriale di Pozzilli Quanto è preoccupato per il rallentamento che sembra addirittura un blocco dell'iter Per la riconversione industriale dell'ormai ex stabilimento Unilever? Quello è stato certamente un pugno duro che il tessuto e il territorio consortile Ha dovuto subire In linea con il trend migliorativo che si sta registrando in questi ultimi periodi Possiamo dire, ma sarebbe più opportuno chiederlo ai referenti dell'azienda Possiamo dire che anche Unilever ci lascia degli spiragli positivi A Isernia via libera al progetto esecutivo per l'abbattimento e la ricostruzione della piscina comunale Ma i fondi potrebbero non bastare Antonio Leone Piscina comunale di Isernia Finalmente qualcosa si muove È ormai da anni chiuso L'attuale impianto sportivo di Contrada Tremolicci nei prossimi mesi dovrebbe essere abbattuto Per poi essere ricostruito ex novo A comunicarlo è stato lo stesso sindaco Castrataro Annunciando che nell'ultima riunione di giunta è stato approvato il progetto esecutivo L'appalto sarà spacchettato in due lotti Si spera finalmente che sia la volta buona Anche perché di annunci in questi anni ce ne sono stati tanti Senza che poi alle parole facessero seguito ai fatti La questione più volte è stata sollevata dalle opposizioni consigliariche Sui ritardi hanno chiesto spiegazioni all'amministrazione Castrataro Ed è stato lo stesso primo cittadino a sottolineare che per il via libera dei lavori Ci sono stati non pochi problemi Tra gli ostacoli incontrati L'aumento dei costi dei materiali A fronte delle stesse risorse legate al finanziamento ricevuto C'è poi la questione dell'efficientamento energetico La nuova piscina dovrà essere autosufficiente attraverso fonti rinnovabili Ma i dubbi e le incertezze non sono del tutto svaniti Castrataro infatti ha spiegato che il milione di euro stanziato negli anni scorsi dalla regione Non basterà per ultimare l'opera Bisognerà reperire altri fondi Motivo per cui i tempi per poter nuotare nell'impianto di contrada Tremolicci Potrebbero essere ancora lunghi Grazie al PNRR anche i piccoli comuni stanno assumendo personale La soddisfazione del presidente Dianci e Molise, Pompilio Sciulli Domenico Marzocchelli PNRR, l'acronimo ormai è entrato nell'immaginario collettivo E nel vocabolario come un neologismo Ora però e finalmente siamo alla fase cruciale Stanno arrivando i soldi, le prime tranche già nella disponibilità dei comuni Alla soddisfazione degli amministratori si unisce quella dell'Anci L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Ai nostri microfoni il presidente regionale del sodalizio, Pompilio Sciulli I comuni ormai hanno dei fondi per poter programmare Per poter in qualche modo realizzare quelli che sono gli obiettivi Che le varie amministrazioni si propongono E grazie all'impegno della stessa Anci Il varo di emendamenti alla misura che ora consentono ai comuni Di procedere alle assunzioni, tese a colmare le endemiche carenze di organico Il tema che tanto prima era caldo ai sindaci eccetera Cioè della possibilità di non poter portare a termine Quelli che erano gli obiettivi Perché non si aveva la disponibilità di personale, soprattutto tecnico Adesso non esiste perché i comuni hanno la possibilità Con questi fondi anche di assumere Finalmente si può programmare Mentre prima si andava sempre ad esimosinare all'assessore di turno Adesso praticamente i comuni, i sindaci, le amministrazioni Possono in qualche modo programmare Quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione Perché non solo ci sono i fondi del PNRR Che vanno spesi in una certa maniera con opere programmate Soprattutto a mio avviso inserendo i privati Ma hanno anche i famosi fondi della legge Relaci Dove Langepolis è stata la prima firmataria Quindi ci sono fondi che veramente ogni anno i comuni ricevono nelle proprie casse Ritardi nell'elettrificazione della Campobasso Roma E aumento dei costi Dura presa di posizione in merito di Quintino Pallante Ferrovie non ci ha comunicato nulla Si faccia chiarezza L'ha sentito Antonio Leone Ritardi nell'elettrificazione della Campobasso Roma I toni tra Regione e Ferrovie si fanno sempre più accesi Dopo il caso montato dal sindaco di Sernia a Castrataro Che sull'allungamento dei tempi ha chiesto spiegazioni ai vertici di RFI Anche il Presidente del Consiglio regionale ed ex Assessore ai Trasporti Quintino Pallante vuole vederci chiaro I lavori dovevano essere già ultimati Invece nei giorni scorsi la società che gestisce le ferrovie Ha fatto sapere che per ultimare la tratta che va da Campobasso a Sernia Se ne parlerà a fine 2024 Se non a metà del 2025 Come se non bastasse C'è la questione dei costi Più che triplicati dagli 80 milioni previsti Si è arrivati a una cifra a mostre di 290 milioni di euro Tutte novità di cui la Regione non è stata informata Ha spiegato Pallante Posso confermare che la Regione non ha mai autorizzato Né lo slittamento temporale Né l'aggiunta di risorse Rimariamo meravigliati di questa crescita esponenziale Per la quale le ferrovie dovranno rendere conto E ancora di più dobbiamo spingere Affinché le ferrovie mantengano gli impegni Voglio ricordare a tutti i telespettatori Che l'impegno era di chiudere i lavori entro il 2020 Poi ci sono stati come tutti sapete il periodo del Covid Con una chiusura promessa al 2023 Oggi si parla di 2025 È evidente che qualcosa non va E su questo io credo che il Presidente Roberti Si confronterà il prima possibile con un tavolo romano Per rimettere le cose in ordine Ma una volta ultimati i lavori Ci saranno i fondi disponibili per acquistare treni? Pallante si dice fiducioso Abbiamo già avviato l'acquisto di 4 treni elettrici Ai quali dovranno seguire gli altri Postato circa 70 milioni sulla FSC Per continuare ad acquistare i treni elettrici Che garantiscono oltre che il comfort La sicurezza e soprattutto qualche possibilità Di collegamento aggiuntivo Tra la Capitale e il Campobasso Il Capologo di Regione Intanto nelle ultime ore si registra anche La dura presa di posizione del Movimento Consumatori Che ha chiesto al Presidente dell'Aggiunta Roberti Che ha anche la Delega ai Trasporti Un'inchiesta a consigliare per far luce sulla vicenda E si festeggia il Natale al Centro Medico di Diagnostica E riabilitazione del gruppo Neuromed A Sant'Agata dei Goti I pazienti e personale sanitario Ricevono in dono una nuova chiesa Prima messa celebrata dal Vescovo della Diocesi Giuseppe Mazzafaro Il servizio di Antonia Cristinzio Il Natale è un momento di gioia Di famiglie che si riuniscono Di bambini che giocano In ospedale però anche in questo momento Si sperimenta invece una condizione di separazione E' così che diventa fondamentale Mitigare questo senso di distaccamento Offrendo dei luoghi in cui Lì dove le nostre preghiere Ci sembrano sbattute dalle intemperie Si possa ritrovare una forma di dialogo Con Dio e con se stessi Al Centro Medico Diagnostica e Riabilitazione Del gruppo Neuromed A Sant'Agata dei Goti Questo Natale sarà possibile farlo Grazie all'inaugurazione della nuova cappella Posta al piano terra della struttura In qualità di amministratorio ho sentito il bisogno Di dover fare un momento Di dover creare, di organizzare Questo momento di preghiera Per fare in modo che i pazienti Che trascorreranno il Natale Lontano dalle famiglie Possono avere quel momento di ristoro Per far sentire la nostra vicinanza E per farli sentire a loro agio In occasione della cerimonia di inaugurazione Alla presenza oltre che di pazienti E personale sanitario Anche del sindaco e del fondatore del gruppo Una messa prenatalizia Celebrata dal parroco del paese E dal vescovo Giuseppe Mazzafaro Abbiamo colto l'occasione Della sua visita pastorale Una visita importante Perché è molto sentita La sua presenza sul territorio Per inaugurare questa chiesetta Che abbiamo con tanto impegno Messo in piedi Abbiamo cercato di allestire Cercando con l'aiuto di tutti Di creare un ambiente accogliente Per fare in modo che i nostri pazienti Possano ascoltare la messa E avere un momento di preghiera Il CMR offre assistenza qualificata Nel settore della riabilitazione E della rieducazione funzionale A bambini sin dai primi giorni di vita E per tutto l'arco evolutivo Oltre che ad utenti, adulti ed anziani Abbiamo un setting assistenziale Che è il semi convitto La logopedia Che accoglie tanti tanti bambini Il nostro focus è proprio su di loro Per cercare di dare una speranza Per cercare di recuperare il recuperabile Per cercare di dare una speranza A questi bambini E cercare diciamo Di aiutarli nella loro vita quotidiana Il Natale dopo tutto È la festa dei bambini Sono il nostro amore Insomma Il nostro Ci riempio di gioia ogni giorno Per cui Una sfida difficile Che la struttura Fa da qualche anno Però insomma Stiamo cercando di offrire Sempre meglio Sempre più Attività E a Sepino Il Natale dell'inclusione L'evento è stato proposto Dai centri di accoglienza di Sepino E curato da Monsignor Gabriele Teti Capellano militare E giornalista Si è parlato Dei riti del Natale A cominciare proprio dal presepe Quest'anno Ricorrono gli 800 anni Dal primo presepe Fatto a Graccio Da San Francesco Sentiamo Un bel momento di inclusione È stato organizzato a Sepino Ricollegabile alla festa di Natale Ma con dei significati Precisi e partecipati L'evento è stato proposto Dai centri di accoglienza di Sepino E curato da Monsignor Gabriele Teti Cappellano militare E giornalista Ed ha visto la partecipazione Delle istituzioni scolastiche Oltre alle istituzioni private E pubbliche del territorio Creando un ponte Fra le diverse generazioni E settori della comunità A fare da cornice All'evento La sala convegni Santo Stefano Una chiesa sconsacrata Ristrutturata Con i fondi del giubileo Del 2000 E resa spazio fruibile Per la collettività di Sepino Il motivo di fondo Parlare di riti del Natale A quanti non ne conoscono Pienamente i significati A cominciare dal presepe Quest'anno Ricorrono 800 anni Dal primo presepe Fatto da San Francesco A Greccio Non poteva mancare La musica in questo evento Quella che caratterizza Il Natale E non solo Un ruolo assoluto È stato assunto Da Antonio Nicotera Di Vinchiaturo Professore di musica Pluristrumentista Cultore Delle tradizioni molisane Ed autore Di poesie dialettali Nicotera ha curato La colonna sonora Di questo evento Che ha visto Giovani emigrati Provenienti da tante zone Svantaggiate del mondo Incontrare i giovani studenti In uno spirito Di condivisione Di scoperta Di significati A cominciare Da quelli universali Del Natale Emilio Izzo Presidente del Comitato Culturale Preistories Ha presentato Le iniziative Della sua organizzazione Per le feste di Natale Tra gli eventi Il presepe Fatto dai bambini Di Sernia È un albero di Natale Nel centro storico Il servizio Del direttore Enzo Di Gaetano Puntuale all'appuntamento Di fine anno L'associazione Preistories Di Emilio Izzo Ha organizzato Una serie di eventi Nel centro storico Di Sernia Al nostro microfono Ci racconta Di cosa si tratti Dopo il 2019 Poi bloccati da Covid Brindisernia ritorna Ma prima ancora Brindisernia C'è una parentesi Credo Non ha niente affatto Da sottovalutare Perché è molto impegnativa E coinvolge la città Lunedì Alle 18.30 Noi inauguriamo Un albero di Natale Che come non si è mai visto E un presepe All'interno di questo albero Però la particolarità Sta nel fatto Che il presepe Lo costruiremo Con i bambini Quindi dalle ore 15 Invitiamo tutti i bambini A portare in questa piazza Un pastorello Una pecorella Una casetta Quello che si vuole Per allestire il presepe Perché poi insieme Lo faremo Per poi inaugurarlo Alle 18.30 L'albero Che è quello che vedete Alle spalle C'è la cassa armonica Diventerà un maestoso albero Come nessuno ha Come nella logica Di preistori Si fa delle cose Che in qualche modo Attraggono E rendono Una isernia Come dire Anche competitiva A livello di appartenenza E a livello di partecipazione Questo albero È particolare L'albero delle donne Perché sotto questo albero Appenderemo Oltre 100 palline rosse Con i nomi Di tutte le donne Che sono state Ammazzate e trucidate Nell'ultimo anno Quindi ha un significato Notevole Questa iniziativa Sì di festa Sì della vita Che continua Nonostante qualcuno Purtroppo ci ha lasciato Loro malgrado Ma avrà Come dire Una Una forte connotazione sociale È di lotta Di lotta A favore Di quelle che sono Le difficoltà delle donne E poi arriviamo al 31 Al 31 con Brindisernia Questa catena Che si formerà Dalla stazione A partire dalle 21.30 22 Mano nella mano Con un segno rosso Festa di Natale Ieri sera All'hotel Dora Dora di Pozzilli Per i dipendenti E i collaboratori Del gruppo Neuromed Nell'occasione L'eurodeputato Aldo Patriciello E il presidente Giovanni De Gaetano Hanno augurato Il loro buon Natale A tutti gli intervenuti Sentiamo ancora Il nostro direttore Festa di fine anno E prima il paziente E prima le persone Dopo l'eurodeputato Che ha ringraziato Tutti i collaboratori Per l'entusiasmo Con cui partecipano Alla missione aziendale Del Neuromed Un saluto E un augurio Anche dal presidente Professor De Gaetano Il nostro telegiornale Termina qui Grazie come sempre Per averci seguito E arrivederci Grazie a tutti